Siamo qui con la psicologa, la dottoressa Margherita Frattini, a seguito del progetto Generazione ON tra l'associazione Parmense, che vede come capofila l'associazione Parmense.net e la scuola superiore Gadda di Fornovo. Si è appena concluso questo progetto e sono qui con la dottoressa Margherita Frattini, che ha collaborato per la parte formativa. Buongiorno Margherita. Quale osservazione, qual è stato un profilo di questa esperienza, qual è stato il suo incarico e qualche osservazione, qualche riflessione sul progetto e sul rapporto che ha avuto con i ragazzi? Il progetto che mi ha coinvolto con gli studenti dell'Istituto Gadda ha previsto due momenti, un momento formativo dove si è cercato appunto di partire dal concetto di pari opportunità per affrontare poi la parità di genere, il concetto di genere e identità di genere e orientamento sessuale e cercare di fare un po' chiarezza rispetto alla terminologia che attualmente è molto complessa. In seguito appunto a questa prima parte abbiamo poi affrontato anche l'importante concetto di stereotipo e pregiudizio per arrivare poi a parlare di discriminazione e di violenza di genere. Da un punto di vista qualitativo ho potuto notare che i ragazzi hanno partecipato attivamente, che hanno comunque portato anche esempi personali e quindi insomma credo che sia stata una buona azione come dire preventiva che potesse in qualche modo far riflettere ai ragazzi su tematiche particolarmente calde in questo momento. Alla fine diciamo in una seconda giornata i ragazzi poi hanno costruito insieme a gruppi un glossario di termini di cui abbiamo trattato nella prima giornata formativa e che verrà poi come dire strutturato in un glossario digitale a disposizione di tutti gli studenti in modo che sia uno strumento di orientamento per loro nell'interpretazione di quello che accade nella vita di tutti i giorni. Quindi insomma emozioni positive e speriamo che sia stato insomma un progetto per loro utile. Sicuramente è stato un progetto utile. Ringrazio ancora la dottoressa Frattini per aver partecipato in maniera così sentita a questo progetto e aver raccolto questa iniziativa e ricordiamo che questo progetto è molto importante. Non termina con la parte informativa e la redazione del glossario ma vedrà anche la realizzazione di spot di pubblicità sociale ed interviste sul tessuto sociale per comprendere appunto il grado di conoscenza e di consapevolezza di queste tematiche che ricordo sono le pari opportunità, la parità di genere e tutta quella parte che riguarda il sistema normativo sulla discriminazione di genere e la violenza. Quindi un progetto importante per prevenire questi reati e appunto sostenere la parità di genere e le pari opportunità. Tra l'altro un argomento molto caldo in questo momento non solo per i gravi fatti di cronaca ma anche perché è in discussione al Senato e alla Camera un disegno di legge proprio che ricalca il tema affrontato oggi dall'associazione parmense.net dall'Istituto Gadda e ricordo con il patrocino del Comune di Fornovo. Grazie Paola Mazza, Tg Parmense. Grazie. Grazie a tutti.